allora facciamo le crepes tipo marocchine questi sono gli ingredienti dopo vi spiego mettete una padella caldo non troppo calda spandete questo consigliabile spandelo perché così viene più viene meglio che non faccia rigonziamenti lasciamo il tempo di scaldare e man mano questo è tipo in guerra per chi è nato in africa come sono nato io non sapevo come farlo l'ho scoperto l'altra sera per caso su youtube e ho detto fammelo provare 400 grammi di semola e grano duro sale un pizzichino 10 grammi di levito di birra un cucchiaio di aceto 660 di acqua tiepida 16 grammi di lievito per per dolci mescolare per due minuti lasciare ripositare 20 minuti e poi mettere il forno vedete si forma proprio questa dopo vi accettare di rendere uniforme il fuoco perché ho detto tenerla così sottile è facile staccarla dobbiamo aspettare che sia ancora non va bene ancora non è cottane ma ecco lo sto facendo con la mano solo chiaramente faccio fatica perché tiene ferma la padella sal di pane poi la fine ok è tutto buon divertimento